La nave Ammiraglio Magnani arriva a Porto Empedocle e sosterà fino al 24 giugno 2012. Si tratta di un'unità ad altura della Marina Militare che svolgerà un'intensa attività di rilievi idrografici e oceanografici del litorale per la raccolta dati dei fondali e ambientali, questo nell'ambito della campagna idrogeonografica 2012. Le informazioni raccolte saranno successivamente utilizzate dall'Istituto Idrografico della Marina, sito a Genova, per la produzione e l'aggiornamento delle carte nautica, sia in formato cartaceo che elettronico e delle altre documentazioni nautiche che costituiscono il corredo indispensabile e fondamentale per la salvaguardia della sicurezza di tutti i naviganti. In particolare l'Ammiraglio Magnani è l'unità idrografica maggiore della Marina Militare, dipendente organicamente dal comando delle forze ausiliari della squadra navale, ha un equipaggio di circa 120 elementi ed è posto al comando del capitano di Fregrata, Maurizio De Marte. Condurrà i rilievi del litolare antistante Porta Empedocle e approfondimenti e verifiche sui banchi Silvia e Talbot. Le attività si concretizzeranno nella raccolta dei dati riguardanti la morfologia del fondale marino in profondità medio-bassa e lungo la costa fino a San Leone, compresa l'individuazione di vento agli ostacoli sommersi pericolosi per la navigazione. Nei periodi di fine settimana l'Ammiraglio Magnani farà sosta in porto ormeggiata al Molo Todaro. Sarà possibile visitarle il sabato dalle ore 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.